Entusiasmante, penetrante e profondo viaggio tra le pagine di questa preziosa pubblicazione per scoprire e conoscere l'India. Venti racconti intensi e partecipati di chi per ragioni di lavoro, ricerca o studio ha visitato la galassia India e ogni racconto è arricchito dai commenti e dalle osservazioni della curatrice Urmila Chakraborty. Il libro, solo in apparenza una guida turistica eccellente, sbalordirà invece perché i racconti sono donati al lettore con passione e nessun dettaglio o suggestione sono lasciati al caso. Tutto viene minuziosamente descritto e chi legge avrà la sensazione di vedere realmente ciò che viene raccontato, quasi da toccare con mano, scoprirà luoghi di rara bellezza, si addentrerà nelle abitudini e consuetudini dei suoi abitanti, nelle loro operosità, nel loro credo religioso. Si assovente la sensazione leggendo che diversi narranti non avrebbero voluto lasciare mai più quei luoghi. Il viaggio è reso più affascinante dalle illustrazioni grafico-pittoriche realizzate dall'artista Paola Scialpi che affianca ogni racconto con la sua arte. Grazie. Grazie.